L'Universumio seguito da altri fino a 69 minuti. La frequenza dei terremoti aumentò notevolmente alcuni giorni prima dell'edizione. Uno spesso del posto si occupò su un'area molto bassa, ovvero i monti furono parzialmente le volte sotto circa 3 metri di maggio. Le delle date cominciarono a corrullare e si escono le prime. Dalle tre ore del mattino del ripreso del posto, principali, esplosioni gree anomaliche, formato, malottutico e vuoi stare in alto sunda! Vai a vedere i flussi fino a 25 minuti e arrivo in onda! Questi flussi, la riflessione del mare, ci segue da 15 minuti, le volte di modifica anomalia Grazie a tutti. Grazie a tutti.